Siamo Greg dall'altro sempre presenti a questi eventi dal tema fortemente sociale quindi la domanda è di Rito, le impressioni e quanto un artista di questo calibro è legato a questo ambiente? Le impressioni sono molto positive su come è organizzato il festival perché è organizzato in maniera molto professionale poi io sono qui in quanto marito di una dei giurati una dei giurati, lei si è vista tutti quanti i film però alcuni visti via internet me li ha fatti conoscere e devo dire che c'è un grado di professionalità eccellente molto più di quanto se ne possa incontrare spesso nel cinema vero, nei lungometraggi e anche all'interno della manifestazione è stato organizzato tutto quanto bene si dà molta credibilità al corto che già di per sé dovrebbe essere come succede nei paesi stranieri un biglietto da visita per nascenti registi, attori, tecnici e vari del cinema in Italia si fatica molto ancora in questo e comunque l'arte in genere se può fare qualcosa senza diventare smielata eccessivamente poetica, può fare qualcosa per il sociale sempre ben venga benissimo, grazie a Greg, complimenti, buona serata e grazie per essere un grande artista del grande cuore al prossimo appuntamento